Un mondo spesso dimenticato e bistrattato dalla politica locale, un mondo che invece andrebbe attenzionato con particolare sensibilità, un mondo che è il nostro mondo di domani, ossia quello delle nuove generazioni, il mondo della scuola, che ha sempre interessato poco gli amministratori di nostri politici, capitoli di bilancio quasi sempre azzerati per la scuola, mentre quelli di settori molto meno importanti gonfiati all'inverosimile. Forse perché i bambini non votano e quindi non necessitano di quella attenzione che i nostri politici hanno sempre riservato alla categoria elettori. Fatto sta che il pianeta scuola a Gela è stato sempre considerato l'ultima ruota del carro nella scala degli interessi delle varie amministrazioni e dei vari ras politici della città del Golfo. Ieri sera Agora ha acceso i suoi riflettori sulla scuola gelese e sui problemi più gravi ed impellenti che stanno caratterizzando l'attualità di questo pianeta. Nel marasma di proteste e contestazioni che quotidianamente si registrano davanti al municipio di Gela, negli ultimi tempi si sono aggiunti i sit-in di protesta dei genitori degli alunni di alcuni plessi scolastici cittadini, la Giovanni XXIII in primis, e quello delle lavoratrici del servizio di refezione scolastica, ancora fermo e chissà per quanto tempo ancora. Il tanto criticato piano di dimensionamento scolastico ed il mancato avvio del servizio di menza scolastica sono stati al centro del dibattito di Agora, andato in onda ieri sera su Canale 10. Il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico della nostra redazione ha ospitato due assessori della giunta pentastellata guidata dal sindaco Domenico Messinese, ossia Chetti Damante, titolare del settore della pubblica istruzione, e Pietro Lorefice che ha seguito passo passo la tortuosa strada del piano di dimensionamento scolastico locale. Assieme ai due amministratori gelesi hanno arricchito il salotto televisivo di Agora tre dirigenti scolastici locali, ossia Maurizio Tedesco dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo, Clizia Nobile del secondo circolo didattico e Giovanna Palazzolo dell'Istituto Comprensivo San Francesco. Non è mancata poi la scheda firmata da Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro, che come sempre ha lanciato frecciate al vetriolo sulla tematica che si è dibattuta in studio. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo attraverso la replica integrale che andrà in onda domani sera, a partire dalle ore 21 su Canale 10, oppure dal primo pomeriggio di oggi sui nostri indirizzi social, il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta sui teleschermi di Canale 10 venerdì prossimo in prima serata con nuovi ospiti ed argomenti che riguardano Gela e Digelesi.